Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovo spacchettamento, nuova apertura dei lanci di rifornimenti qui su Call of Duty Advanced Warfare Abbiamo tre lanci di rifornimenti standard, sto cercando di farvi sia aperture avanzate, sia aperture mix avanzate e mix standard E anche solo standard, perché continuate a dirmi che negli standard state trovando le stesse armi che si possono trovare negli avanzati Quindi perché non posso trovare anche io un qualche bella armetta bella, partiamo subito con il primo lancio di rifornimenti, andiamo! Recupero ricompensa in corso? Oh oh recupera, recuperala, su! Oh che cacchio sta a fa'? Oh oh recupera sta ricompensa, dagli un po', dagli un po', dammi un po' Oh oh dai rega, ma io veramente c'ho una sfiga assurda, non puoi far così, non puoi far così, recuperala! Sei sicuro di voler saltare l'opzione di apertura? Sì, perché non mi fa vedere cosa c'è... No, che cacchio? Nooo, me sei mangiato un pacchetto! Che schifo, dai, l'ho perso così perché sta a delirare, recupero ricompensa in corso Ai 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 ragazzi, questo è un chiaro segnale che io purtroppo non devo aprire più i lanci di rifornimenti Recupero un profilo, eccolo! Fermi! Fermi! Sì, il P-TAC LR, che cos'è? Che cos'è? Arma recluta! Ma chi ci deve giocare? Casco marine d'assalto preso, trovato 200 miliardi di volte in rinforzo Uno, l'abbiamo bello che è perso il lancio di rifornimento, sono proprio contento, che bello, che spacchettamente entusiasmante Maglia casco! Rinforzo, niente di che Niente ragazzi, lo schifo più assoluto come sempre continua veramente la mia sfiga Ma soprattutto sul recupero ricompensa è stato proprio il top di questo video Spero che comunque il video sia stato a vostro gradimento Se vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video E ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale